Sono fiducioso che Aferpi possa realizzare il proprio progetto, non è il ritardo di qualche settimana che può cambiare le cose. Lo ha detto poco fa il presidente della regione Enrico Rossi, uscendo dall'incontro al ministero dello sviluppo economico tra i rappresentanti di Aferpi, i sindacati e le istituzioni locali, comprendo le preoccupazioni dei lavoratori, ha detto ancora Rossi, ma considero positivamente l'impegno di Cedital e di Rebrabbe. Per riguardo alle preoccupazioni relative alla notizia del mandato di arresto proprio per Rebrabbe, Rossi ha chiesto un intervento chiarificatore del governo, fissata poi la data entro la quale l'azienda dovrà acquistare il nuovo forno elettrico entro metà novembre.